I.T. è uno degli eventi di spicco organizzati quest'anno dalla Ladies Auxiliary della CIBPA. Un centinaio di elegantissime signore, quasi tutte italo-canadesi, molte delle quali sfoggiavano originali cappelli, si sono riunite al St. George Golf & Country Club di Toronto per un pomeriggio conviviale al fine di raccogliere fondi per varie organizzazioni assistenziali. Our company gave us $15,000 che per ragazzo per i ragazzi di ottenere. We also had Charmaine from Ryerson University, and we sponsor. We give grants to students for the Italian program. And it was a special event and everybody is having a great time. Abbiamo un po' di fattere un po' di fattere, perché alcuni ragazzi avevano i fattori. E noi facciamo questo ogni volta a un anno. So, spero che l'anno prossima sarà successo come oggi. Abbiamo avuto 90 amici, famiglie e membri attenti. Grazie. Ci sono persone che chiedono per il nostro aiuto. La Ladies' Auxiliary, organizzazione femminile della CIBPA, Canadian Italian Business and Professional Association, creata più di mezzo secolo fa per assistere i nuovi migranti italiani, oggi è impegnata a organizzare eventi sociali e culturali quasi sempre a scopo di beneficenza. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.